Quelli dietro alle mie spalle sembrano essere i primi, le prime conifere, le prime pizze presenti qui, oltre il circolo polare artico, poi probabilmente man mano che scendo verso Colfoot ne troverò ancora. Allora la natura è sempre fantastica, gli alberi sono sempre fantastici, in fondo gli alberi mi stanno accompagnando da un sacco di anni nel buono e nel cattivo sorte, ma sempre accompagnandolo. Pensa te stasera dove dormo, guardate qua, sono sotto il civeta, ti assomiglia molto, o meglio me lo fa ricordare. Ho trovato vicino a un ponte, questo posticino, qui c'è un piccolo torrente, dove finalmente ho potuto mettermi in nudo e farmi un bagno fantastico, avevo bisogno di acqua, dopo tutti questi giorni di bicicletta avevo bisogno di pulire i becconi delle zanzare che mi hanno massacrato. In un'area di sosta, vedete qui c'è la possibilità di fare il barbecue, sto ricaricando con il mio pannello fotovoltaico la tecnologia che serve per poter riprendere. Qui ho la bici in pausa e mi sono montato la tenda. Adesso offro un po' ceno, per fortuna dopo il passo a Oting da questa parte come avevano augurato non ci sono le zanzare, mi sembra già di respirare in maniera intelligente perché sono assolutamente massacrato signori, assolutamente. Per il resto, Dio salve la regina, Giulia. Dio salve la regina, Giulia. Le tulle artiche, Mario Corona le ha definite la principessa del bosco, in effetti è così, leggera, delicata. Sono arrivato al circolo polare artico, la linea del circolo polare artico. Quando si vede sul mappamondo uno pensa dove cazzo è sta linea? E invece ci sono arrivato, ci sono arrivato a fatica, con molta fatica, tanto è vero che gli ultimi 16 miglia ho fatto un altro viaggio nel circolo polare artico, cioè mi sono fatto scarozzare da un track americano, da un signore che si chiamava Doug che ha insistito per caricarmi perché mi vedeva che non andava avanti e mi ha portato fino a qua, ho caricato la bici nel camio. Per diventare grande si fa anche questo, si colgono le cose che mi ha presentato, mi presenta questo viaggio. Ringraziamento alla bicicletta che è stata brava fino adesso, speriamo che continui, ma ne sono sicuro perché anche lei fa parte di un viaggio. E' forse meno legato di mente, ma necessariamente ringrazio il mio culo, la mia prostata e il mio bacino perché solo un anno fa o qualche giorno in più ero morto in ospedale, caduto. da un altro. C'è lei? C'è lei? C'è lei. La prendo così, anche se poi Pai mi dice che non va bene. Comunque signori, circolo polare artico, linea del circolo polare artico, paradossalmente 8 e mezza della mattina, i manichette corte. Non è caldo, ci sta bene così anche a pedalare. Io ho la mia delfi, la mia super bicicletta, i miei super quattro alci nelle borse. Siamo arrivati anche qua. Pazzesco eh? Pazzesco. Adesso mi aspetto a 88 chilometri. Dio salvi la regina nuovamente e anche il re. Giù le. Quello in fondo dovrebbe essere il famoso fiume Yukon. Ponte sullo Yukon, famoso Yukon che attraversa l'Alaska. Il Kanan arriva al mare allo stretto di Beri. Salitona su un ponte di legno. 200 chilometri all'alba signori. Ci avrei anche voglia. L'Alaska è anche questo. Pedalare a 5 ore sotto un dipunto di marsale. Questa strada. Guardate le mie condizioni. Sono andato a Campi. Sono qua pedalando ad alto highway in Alaska. Mancano ancora... ...la quindicina di chilometri all'arrivo di questa tappa. Almeno quella che ho previstiato nella carta. Poi vediamo come... ...come gira la situazione. Come si suol dire siamo agri. Lule. Questa giornata ho serato. Ormai sono le 8 di sera. Assolutamente estiva. Sto aspettando che... ...la mia pappa sia pronta. Ho fatto un po' di manutenzione alla bicicletta. Ho sistemato un po' la catena. Ho pulito un po' di cose dopo i passaggi dell'altro giorno. La mia tenda si sta asciugando. E... ...non lo so se lo intravedete perché c'è il sole. In fondo lì è arrivato un cicloturista giapponese. Che sono tre mesi che è via. È partito dal Giappone. Ha fatto la Nuova Zelanda. E adesso è venuto in Alaska. Questi sono i numeri uno. Questi. Questi. Questi sono i veri super tram. Ci siamo ragazzi. Quattrocento. Quattodici. Miglia fatti. non vedo l'ora di eh... ...arrivare a Fear Banks. Però ce l'abbiamo fatta eh. Numero uno. Giulia. Signori arrivati. Ce l'abbiamo fatta. Con la bicicletta. La tenacia. La determinazione. Dio salvi la regina. Sono emozionato. Ce l'abbiamo fatta. Dio lei. Dio lei. Dio lei.